In premessa dobbiamo dire che l'algodistrofia è una malattia caratterizzata da un quadro eziopatologico complesso, che non si colloca entro i confini di una precisa figura specialistica, ma che richiede un approccio per una gestione multidisciplinare. Il primo delicatissimo compito di questi specialisti è quello di identificare la patologia, eseguendo un'accurata diagnosi differenziale allo scopo di escludere malattie con un quadro clinico simile presenti nel loro ambito specialistico, per esempio l'osteomidite, l'osteonecrosi, le artriti infiammatorie. E quindi, oltre dobbiamo dire che alla diagnosi anche la terapia richiede un approccio multidisciplinare, dove le figure principalmente coinvolte sono l'ortopedico, il fisiatra, l'algologo. L'obiettivo primario di questa gestione multispecialistica è quella ovviamente di ridurre la sintomatologia dolorosa, contrastare l'evoluzione della malattia, favorire il recupero dell'articolarità e limitare anche per esempio l'osteoporosi. L'ortopedico deve impedire l'evoluzione della patologia verso forme subacute e croniche, considerando che l'algodistrofia rappresenta per esempio una complicazione, purtroppo, ahimè, spesso sottostimata sia della chirurgia maggiore che di quella minore e noi sappiamo che l'algodistrofia in un rapporto 4-1 è più frequente nelle donne. Il ruolo del fisiatra è rivolto prevalentemente al miglioramento funzionale, eliminando ad esempio le contratture muscolari, riducendo l'atrofia. Una buona strategia preventiva consiste nella mobilizzazione precoce dopo l'atto chirurgico con esercizi attivi e passivi per mantenere l'escursione articolare. L'algologo può altresì contribuire a ridurre il dolore mediante blocchi regionali del simpatico o attraverso anestesie loco-regionali. Pertanto la multidisciplinarità è il requisito sul quale si fonda la gestione dell'algodistrofia ed è fondamentale per un corretto inquadramento diagnostico, per un rapido ed efficace trattamento e per ridurre, cosa ancora più grave, le probabilità di cronicizzazione della condizione algica di questa patologia che, ripeto, ancora oggi è sottostimata, sottotrattata.